Sono già tornate in campo per la prima uscita ufficiale della stagione le ragazze a Marando di Mister Testini. L'Arezzo calcio femminile si è infatti in posta in trasferta sul campo della Puglia Trani per 3-0 qualificandosi al primo turno di Coppa Italia. Non avevamo fatto amichevoli quindi era per noi anche un test, ho visto molto bene la squadra anche se dobbiamo lavorare come tutte le cose, ci sono tante ragazze nuove quindi dobbiamo ancora lavorare molto. Abbiamo cercato di fare una campagna acquisti oculata secondo quelle che erano le nostre aspettative e il nostro progetto quindi sono contentissimo delle ragazze che ci sono, del gruppo che c'è quindi assolutamente poi se andando avanti se dovesse servire qualcosa ci penseremo al momento va bene così. Un'ottima prima prova per le Marando neopromosse in Serie B anche in vista del campionato 2022-2023. Sicuramente è un campionato diverso con tantissime squadre che hanno ambizioni importanti, sarà un'annata sicuramente dura. Effettivamente la Serie B è una categoria di altissimo livello proprio perché ci sono tante giocatrici scese dalla Serie A in considerazione del fatto che in Serie A oggi c'è il professionismo quindi c'è stata una sorta di ristrutturazione delle due categorie quindi sia la A che la B e in Serie B abbiamo degli avversari molto all'altezza. Dal 30 agosto gli allenamenti della prima squadra dell'Arezzo Calcio Femminile si stanno svolgendo allo stadio comunale di Castiglion-Fibocchi grazie all'accordo raggiunto con il Sette Torri 1983. Noi abbiamo delle esigenze diverse rispetto all'anno scorso perché la categoria ci fa fare quel salto e quindi la Serie B richiede tanto più sforzo, tanti più allenamenti e sicuramente un campo dimensionalmente simile a quello che poi diventa il campo di gioco della domenica. Quindi qui a Castiglion-Fibocchi abbiamo dei campi, degli spogliatoi ideali per fare questo tipo di preparazione. In tutti gli sport la nostra amministrazione cerca di investire e di aiutare tutte le associazioni, le società che vogliono fare sport perché lo sport è fondamentale per insegnare e dare un'educazione giusta ai nostri ragazzi e a tutti noi. E quindi accogliamo con grande piacere questa possibilità che è venuta fuori grazie alla collaborazione quindi del settore femminile dell'Arezzo e anche del Sette Torri ovviamente. Noi come Comune abbiamo fatto la nostra parte affinché potesse andare avanti questa cosa e si fortifichi queste collaborazioni perché possono permettere uno sviluppo importante anche delle nostre società, anche delle nostre attività qui a Castiglion-Fibocchi.